Sono del mondo una realtà, usi e costumi, sono dell'uomo proprietà. I vecchi ai figli raccontavano la verità, storie e canzoni rimanevano nel cuore. I vecchi ai figli raccontavano la verità, storie e canzoni rimanevano nel cuore. Le tradizioni non bisogna mai scortare, sono patrimonio della nostra società. I vecchi ai figli raccontavano nel cuore. 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 Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi.